Che cosa serve questa app di cui si è parlato questa mattina in conferenza? È un'app che agevola la comunicazione cittadino, negoziante, che sia commerciante, che sia un produttore, che sia un ristoratore, quindi anche un libero professionista. È un'app che serve nel momento in cui io, utente, ho una necessità, digito la mia richiesta in base alla tabella mercilogica di cui ho bisogno e il mio messaggio va in automatico a tutti coloro che si sono iscritti registrandosi. Perché l'abbiamo voluta fare? Perché noi siamo convinti che sia oggi necessario sostenere il commercio locale, ma anche andare nell'ottica dell'innovazione. Quindi è ovvio che dobbiamo seguire quello che è il mondo che va avanti, ma nello stesso tempo noi abbiamo questa ferma volontà di difendere il commercio di prossimità, il punto di riferimento anche sociale per il cittadino, per la persona. Quindi è una scelta che va nella direzione di agevolare il mondo economico, ma mantenendo una forte attenzione a quello che è l'importanza proprio della persona nel suo essere, anche nel rapporto interpersonale. Quindi di per sé è un'agevolazione. Cosa succede? Chi desidera accogliere questa proposta, che noi abbiamo fatto gratuitamente per tutti i commercianti liberi professionisti di Pontremoli, si scarica l'app, si iscrive come appunto fornitore e ovviamente i cittadini che desiderano fruirne devono iscriversi come utenti e a questo punto inizia questo tipo di rapporto, questa relazione. Noi riteniamo che se viene interpretata nella sua giusta valenza, che è proprio quella di avvicinare in questo momento di distanza, anche superando le paure che talvolta ci sono da parte dei cittadini, insomma del contatto fisico. Quindi se riusciamo a incentivare questa partecipazione, ci potrà essere questo modo nuovo di coniare il commercio locale con quello che è anche l'ordine online. Qual è la ricaduta? Che non è più un terzo che consegna a casa, ma il commerciante stesso, che dietro accordi con l'acquirente, ovviamente si reca al termine della propria attività e quando desidera fare la consegna. Quando sarà possibile scaricarla? È già possibile, io compro in città, è tutto gratuito, quindi è già assolutamente fruibile.